Primo indizio, il suo attuale valore di mercato è 35 milioni. Stefano? Kostic, Kostic. Fra, Kostic no, no. Sì, però mi era schiacciato io. Vai. Mi ero schiacciato. Vai, però, dillo. Dillo. No. Chi? Non ha partecipato a Qatar 2022 per infortunio, Stefano. Vinaldo? Benzema. No. Benzema. No. Ha vinto il campionato. Campionato sia nel 2021 che nel 21-22. Stefano? C'è la nostra privata. Non con l'ho vinto né in una né nell'altra. C'è la nostra privata. È soprannominato? Magic. Magna. 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 Magna.